musica musica felice ragazzo figli di mamma mediaset che bella mamma mediaset allora abbiamo fatto la prima puntata e faremo solo l'ultima perchè in mezzo abbiamo avuto un sacco di lavoro da fare tra cui siamo andati all'Etna Comics in Sicilia e vi spoilerò che abbiamo girato una cosa fighissima che uscirà a settembre all together now! questo lo abbiamo rubato al party quando ci hanno invitato al tuo sal di caffè e infatti non ci invitano più da nessuna parte, allora signor Trussardi non era felice di tutti gli spritz che ti sentono, signor Trussardi cosa fa? allora andiamo a fare la finale abbiamo fatto l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega e lo yang e lo yang, come al solito il video verrà diviso in tre parti, se volete continuare a vedere tutta la puntata ovviamente qua sotto mi commentate e mi dite vai avanti con la all together now e comunque tre parti cos'è? tre parti tre parti, mio dio mio schifo no! vai 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 è sparita gente dal muro è vero spero non incompleto che schifo è oh mio dio mi diceva la testa infisema talobesante cos'è? infisema infisema vabbè rispira col naso, rispira col naso, vai avanti no volevo chiederti ma scusami ma si stavano facendo i caldo che stavano aggetto la telecamera sono diventati gli arcade boys a cui mi sono affezionato veramente come dei fratelli del solito tranne quello che non c'è di dentro sono scappato dei dannati stacchetti che mi perseguiti dannati pezzi di stella cadente che colpendomi il cuore sono rotolati via sono quattro caselle vuote sai perché? si si sono caccati addosso e questa è la gran finale ci abbiamo dei grandi ospiti quindi ah vedevo l'ora beh oddio la scampanata sulla caviglia no la canzone no però la sigla, la sigla, reacciono alla sigla? senti puoi per favore lavorare e non cantare in studio? si ti prego grande Robby ah le mie amiche amica O guardalo! guarda il verme sono capace anch'io in ultima fai il figo aspetta ho sentito degli anni 90 si tieni il tempo con le mani a te ma cosa fai Michelle? il twist senza le mani vabbè è una una fia cos'è una valkyria non capisco se sto per essere catturato da un'armata di demoni no all together now come la famosa canzone dei Beatles ah ho capito con la partecipazione speciale chi è? e iniziamo subito chi è? non lo so però mi ha passato un bagno prima era quello zio che l'ha preso ai matrimoni che no? così induce un po' troppo sull'aperitivo si si induce un po' troppo se mi piace come l'hai girata esatto tu hai le mani e gli occhi cosa? al mar mediterraneo il king di sassuolo il king di sassuolo albano? che cosa vuol dire milf? no no cosa? nec grande e vestito come jinkazama madonna quanto mi fa bagnare questa canzone troia adesso se schiacci tutti e due i calci insieme la catena c'era già guarda i pantaloni da corvo che bello che è diventa evil neck ma cosa succede? andiamo avanti ma qui nec fa parte del gruppo del muro oggi? no nec fa parte ho visto tutte le cose lei sta allora idolatrando nec scusa resta qui con noi perché c'è un altro collega chi c'è? che ci si è aspettando no scherzo che se fosse un monumento sarebbe la tour eiffel ha unito generazioni e ti faccio vado bene non direi po' che è verità ok dall'est all'ovest e lui è diventato un nemico guarda qua diventato un viscido è un nemico pubblico va bene Albano? si 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 ah ecco mi ricordavo la roba del nemico pubblico infatti io non l'ho mai capita sta roba però ce la fa più ce la fa più ce la fa più Albano io siamo ce la fa più ma in playback io credo che no ma qualcosa Albano in playback perché è arrivato Caudi cance eeeeh ma guarda che ci vuole una potenza mostruosa per quella canzone camminare e cantare quella canzone Albano sia il sinonimo di potenza mostruosa vai guarda come prendi da provare è molto caldo quando si parla di Albano qua c'è sempre un alone di paura si paura di essere parato guarda che gentil'uomo però Neck è arrivato e ha subito salutato Axe con l'amichetto arriva Albano che comunque è uno che ne sa baciamano però baciamano non dovesse appoggiare le labbra secondo Galateo Neck sta guardando ne ha già puntate due o tre vai 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 ride continua eh si puntate lei dice ma l'hai finita ma la pianti c'hai cinquanta che c'è sta roba mamma mia io adesso voglio sapere chi è il regista che ha usato quella camera focata che ha detto no fai così mettila davanti che tanto c'è l'autofocus non succede niente cosa vuoi che succeda vai beh com'è 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 se quando dico com'è tu rispondi c'è nè bull è diventato Neck Corpse Mutilater comunque mi sceglie sto collarino così mai più ti prego perché è deleterio ma chi ma chi rincontrarlo fra cent'anni e ti saluta lo stesso ma chi Ron madonna ron è diventato mal oh mio dio no è diventato mal no ma peggio è coso il presidente degli stati uniti come si chiama Bill Clinton ma che cazzo dici quello nuovo Barack Obama se ne hai un altro come si chiama l'imprenditore come un altro ma Trump Trump è uguale ma non è uguale è mal raga sondaggio è Trump è mal Barack Obama George Bush Bill Clinton guardalo è mal è Obama ma non è vero è mal c'è una strana espressione vabbè stiamo avanti di 50 anni dietro però quanto ha scopato nella sua vita beh credo che stia finendo di scoparsi le cose quale del muro si scusa Tim o Tim no vabbè abbiamo allora abbiamo Ciccazzano e Paul Phoenix oh che dirlo io raga se adesso mi trovate anche Kicciulli e Xiaoyu possiamo fare un picchiaduro si si almeno un tag team Paul Phoenix ma perchè è crociato così madonna sai che sembra anche come si chiama Tiger mi sembra anche no no non so se sono più tutti i tatuaggi o un chiodo finto dai dai no però raga e ti saluto non puoi schifare per favore si per favore occhio questi braccetti meraviglia mi ha fatto snitch alla diva sul mento che è diventato famoso un canto un canto beh lei ha questo dolce stilino ma ho diventato 10 noi non possiamo esimerci dal vero lei esimerci ah soprano chavich oh oh c'è anche c'è anche Low Marshall Low ma cosa avete fatto il muro e tutta la cosa di Tekken? ma cos'è oggi veramente Tekken? tutti quelli di Tekken raga si 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 va bene sei soprano non abbassarci la trasmissione però i soprano sono un po' sopravvalutati io preferisco i tenori in mezzo baritono si ma non me ne frega un cazzo preferisco schippare si schippa che va bene poteva evitare di cantare si poteva evitare anche di venire a Murman Chavallana però va bene bravissima siamo ignoranti noi lascia stare guardalo male subito ah no Ron il concetto eh simpatica ma lei è geniata lei deve fare una comic ma lei quando non canta perde qualsiasi la condizione allora io ogni volta che parlo di lirica musica classica un conservatorio prende fuoco automaticamente bravo si un po' come il tuo completo Axe no sta cercando di darsi fuoco da solo il tuo completo Axe ha fatto la battuta ai Neck che comunque fratellini ti sono guardati hanno un sorriso anzi tanto anche la spalletta qui sta potete accomodare potete accomodare per favore il vostro muro ah i quattro posti si ah Rovazzi è andato via per lasciare il posto a Neck si bene vai mamma mia Axe e lì è un attaggio di striscia la notizia ahahahah credibile credibile beh cosa fa po 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 è quell'altra di Tekken che faceva la mossa con i pugni quella indiana come si chiamava Giulia? come non lo so ma chi lo so sai che sono tutti i Tekken si ma adesso entriamo nel vivo della gara i nostri concorrenti si dovranno esibili una contro l'altro ah quindi inizio dei combattimenti di Tekken speriamo e ovviamente non sanno contro chi combatteranno ma combattono davvero siamo arrivati ah Mokushin che non sei con tutti i combatti che prende le stile di tutti di questa finale di All Together madonna quante quante vaikiria se aveva un vestito nero e dei cani lupo al guinzaglio e questi sono tutti quelli che hanno vinto eh si si Carlo e Daria tu dove stai? io con Carlo beh Daria comunque è il donno la 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 tu stai con Carlo quindi? non mi ricordo più i nomi raga vabbè con l'uomo o con la donna? eh eh no devi dirlo sul non mi ricordo più il gender bello confuso lei è gigantesca è ginomica paradisone uno scontro tra titani infatti il muro immediatamente ha detto no c'erano tutti i concorrenti così perché ormai sono tutti ma così ma senza avvisare non mi ricordo col picchierino con l'acqua e il volume che passa dal cuore mamma mia estremamente bravi bellissimo e a iniziare questa sfida sarà Carlo Two volume si ecco mi ridere io lui mi sembra un cameriere così un po' sopra le righe si eh si eh Ehi Si chiuderà la giacca? Non lo so, le mosfettine non le sa fare però Senti con il funky Non capisco le parole Schippiamo e non ci frega un cazzo Forte però, forte, bella voce Guarda Spertissimo lui Non battano coi piedi come la Lamborghini Non l'ho trovato così male Oh Ciao Vestita da Basta Ma solo anni 60 Il programma è già giovane Cerca di svecchiarlo con Perfettamente il senso Vabbè ma sai cosa Stoppa Il programma è giovane È bello e scoppiettante Però è sempre Mediaset Quindi il pubblico Si chiamano varietà Bisogna Eh bisogna varietà e variare Infatti fai il programma giovane Però con canzoni che conoscono tutti Quindi anni 60 Certo Siamo nel 2020 Diciamo che sono 60 anni Non so Tra un po' mettiamo anche le canzoni del ventennio Però vai Ehi la sorriso lui C'è la di Massimo Ragneri Ah lui comunque se la guarda a casa Sì non si voleva entrare Direi insomma la prova Quindi fai la reaction tu Da solo Sì a casa Però da bene Vederlo e ascoltarlo Reagisco il together now Con il reatto zero È troppo tiranieri È troppo tiranieri Però Senti Avrai altri programmi Ti fai Non preoccupare Dai hai detto davvero Davvero Vabbè Ti chiamerà Allora la canzoni a parte Perché qua Hai seguito Avevi altri programmi da fare Non è che puntavi la tua carriera Sul together now Vero Cioè Hai avuto Te lo sei fatto un piano B Non è che hai dato tutto qua No perché Hai fallito male Dobbiamo Incubilare questa cosa Io te lo dico Cioè Dobbiamo Clippala 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 guarda che l'hai votato ci sei acceso eh no aspetta non ha capito il cazzo e mi scema va che l'hai votato eh no perchè secondo me lui è il pulsante per dire no era rimasto a voice no lui faceva the voice no ma the voice comunque no qual era quello che voti per fare per me no 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 ma magari l'hai visto alla tele ma certo ho capito che cazzo wild tu cosa dici? allora guarda ne parlavo anche con cisco prima ah amica cisco si eh però non mi son girato è vero è uguale ma si può dire la parola con la n eh 169 che è una delle mie canzoni preferite in assoluto si quello che mi piace di questa canzone è che io invecchio e lei rimane giovane un po' come albano le sue fidanzate ah 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 lui si che ha servito ti spiego una cosa jx jx albano ha cognato non so se l'ha cognato lui o suo cognato ma questo detto la battutina questo detto che dice vino invecchiato moglie giovane ora se tu sei ancora a fare il rap degli anni 90 non è colpa sua eh lui ha le moglie giovani perchè albano si è sinonimo di potenza esagerata proprio com'è che era potenza assoluta assoluta potenza tantissima ma di che cazzo stai parlando? dei rapporti plurimi e costanti con le sue giovani moglie io mi dissocio guardalo come conciotto fuori sai che il tecken 4 non liореo li potevi lasciare i capelli sciolti sentiamo daria vai vai daria vede i draghi che cazzo ci ridi ti ha portato lei? si ancora? ma l'ha fatta alla prima puntata eh se è see see visto che è piaciuta l'italia a memoria corta ah visto che è piaciuta le ripropongo sei visto la faccetta di albano posso poterlo tornare indietro un attimo? questa... che dico là Ma che cazzo sta dicendo? Non è italiano No, no Sta dicendo, eh, ma questo non è viking metal Cosa sta facendo? Sai che lui è scontato solo musica pugliese e viking metal J-Action sempre che li fa le doppie Reaction da cazzo Sembra che stanno incidendo di vita e di morte Sì, è vero Perché da solo in silenzio Mr. X Brava però, dai Io apprezzo tantissimo che si è depilata la shell Bene Si è scelta un pezzetto leggerino, eh E non sta parlando di Morgan Eh Vai Mamma mia, non lo so Bugno della felice Non ce la faccio da guardarlo Cazzo ne frega Possiamo schippare? Tantissimo Perché Ron è diventato male? Me lo schivete? Penso che faccia tutto il disco di concerto di Rita Franklin Tutto Dario ha piaccati La sua voce è potente Guarda quanti ne hai convinti E altrettanti ci hai caccato la minchia Però va bene Sì Perché è arrivato il momento Della prova fisica Di comprendere Passerà il turno Allora Ti passa il turno Sì Passerà Io posso dire che la natura ti ha regalato Sono qua Nooo Neck 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 Lui già sta pennello di distanza No Lui l'ha detta Non io Sentiamo cosa dice adesso Cioè hai un dono Allora Fatemi spiegare Confabulando con il mio Confabulava Dicevo anche lei Io ti sento a Rita Franklin È un complimento Sì Però vorremmo sentire qualche Cosa di faria Un modo personale Di cantare La canzone di qualcun altro Però per fare a Rita Franklin Bravo Non è facile quel pezzo L'unica cosa di spagnolo Che ha a lei È il colore della pelle Perché? Ed è subito Netflix edition Per Albano Parliamo un tipo di questa cosa No non parliamone affatto E già c'è la Ulziker Che mi viaggia sempre sul filo Vai È nobilmente Nobilmente Arianna Te l'ho detto Che mi viaggia sempre sul filo Della Ulziker L'ho appena finito di dire Nobilmente Bianca Ai fiera delle sue origini Andiamo avanti Per favore Tra l'altro qua Lui è lì Di Tec e Due Tante brava O se non sarebbe Rita Franklin Dici tu Non sarebbe bella Non sarebbe bella Non sarebbe bella Non sarebbe bella Ma sarebbe più opportuna Cosa ci siamo persi In queste giornate ragazzi Io ho avanzato Anche per Daria Perché Anzi secondo me Ha messo Una sua interpretazione Nella canzone Tra l'altro Possono cantare in cinque Fra i cantanti Che conosco Così bene La tua voce Ci ha sollevato Dalle sedie Spezzando le catene Per quelli che ci sono stati E tu hai una voce tale Che se provano A metterti in autotune Quando registi Si disinstalla Da solo Per vergogna E poi ci sono Guarda che nessuno Non so cos'è l'autotune Ci sono cantanti Che ti fanno venire I brividi sulle braccia Ci sono certi cantanti Certe finche Mi fanno venire I brividi Anche sul resto del corpo Quindi A me c'è un botto Di cantanti Che ultimamente Sento che C'ho questi brividi Che mi prendono O il signore O il signore Che ha copiato Che ha copiato Che ha copiato Che ha copiato 82 Lui Passa lui Eh si Almeno l'ha fatta sua Raniere Raniere Vabbè Però è giusto Lei non è apportuna Di quella pelle lì Fuori dall'anima Fuori dall'anima Via Bravissima Ci vogliamo bene Cosa? Questo è il tuo applauso Di canio credo Dario Il monarchico Il monarchico Il monarchico Per chiedere A basso la repubblica Viva la monarchia Vai Dennis e Luca Bene Ma c'è così freddo Che devi mettere la sciarpetta lì Ma si l'ho detto dall'inizio Bravo Porta sfida Dai Sei zitto Dategli degli schiaffi Ma gli ha picchiato dei reni Uno li strangolava E ha fatto la mossa di onda Con le mani Ah ho capito Luca me l'aveva detto Luca me l'aveva detto Ha iettato Luca dammi i numeri A questo punto Se sei così per il Sulla ruota di Mantova Mamma tanto Cosa? Gli ha lanciato dei lati Si fanno dei Guardalo eh Bravo eh Bravo sei proprio simpatico Con le scarpe da tennis E con lo smoking Bravo sei chiambretti? Eh sei chiambretti? Cosa c'è? Sei chiambretti? No sei chiambretti? Sei chiambretti? Sei chiambretti? Basta No perché mi sembrava chiambretti Luca tu sei qui Per iniziare una carriera Si Come chiambretti due E tu per riprenderti E tu per riprendertela Dennis Fantini Che è lui Ragazzetto giusto? Vai però Meno veloce Oddio Metti le mani a posto Perché una qua L'altra è la sotto La coscia È l'interno coscia Alex Britti Alex Britti Comunque Alex Britti Miglior schitarrista in Italia In assoluto Peccato che di tanto Voglio anche cantare Purtroppo deve fare pop Per mangiare Eh quello era Questa scena rispetto Solo Speranza E Alex Britti Che Alex Britti Mi piace suona il blues Con gli americani Certo A me non piace tantissimo L'autorappo Si perché ma Ha giocato la minchia Si Cercavo Disidratato l'apparato Riproduttore Avrei usato Un termine un po' più elegante Ma Si come te Ma vada che è inquietante Nel longa Severus Python E sul sesto Si è toccato Il sesto Hai ragione Si è toccato il sesto La me Si ho detto La mia Ma ne l'ha schiacciato lui Il pulsante Cazzo te ne prega Ma ne Allora ascolta Quasi quasi un po' Non è che Il Parlamento Parlamento Dice un purgatorio E più o meno Non è che so La mia cosa è burrì Le purghe Quando devono fare la pipì Per il sesto Eddie Gordon Ma questi sono Occhiali Per concentrare La viettatura Puoi schifare Prego Eh Ma sono tutti contenti Guarda Ciao Com'è ti è sembrato Dennis? Allora io mi sono alzata Per tutto il rispetto Meraviglioso Che ho nei tuoi confronti Io ho un rispetto Meraviglioso Molto Molto troppo Emozionato Verità 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 o sfida Ho detto poco Prima di partire Ho l'ansia Però è anche Un bello Un artista Quello di sentire L'ansia Che ti divora Che ti divora Il controllo se ne va Lo so E mi inchino Al tuo coraggio Per essere qui E mi inchino al tuo coraggio per essere qui Però questo Dennis L'altra volta tu mi hai fatto emozionare tantissimo cantando gli Aerosmith Ecco secondo me Quello è il mondo perfetto per te Il mondo perfetto Il mondo degli Aerosmith Non mi sono alzato Perché su questa esibizione Però volevo dirti una cosa Io volevo ringraziarti Perché tu Ci hai insegnato qualcosa Quello ci hai insegnato Ci hai lasciato Una lezione molto importante Quale è? Si è cantanti veri Quando si mette l'amore per cantare Davanti al proprio ego E ti ringrazio tantissimo Per essere venuto qui a Oltugale E' eronico che diceva Uno chi è questo che parla Due cosa sta dicendo Ricordo il pubblico a casa Che non possiamo sapere i voti Adesso è arrivato il momento Di Luca Di Stefano Vai Bene Guardalo con le sue scarpine Vai Ma è una moderna però Si Questa è conosci Ma lui sa prima le canzoni O le stai conoscendo da lui? Ma che cazzo succede? Cos'è? Su quella secola Vabbè ma stai morendo? Ma giusto Vuoi un bronchenolo? Si Come sei vestito? Si ascoltami No raga Non ce la faccio No 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 Eh esatto Ma cosa? Cosa? Forte Incredibilmente forte Però basta Ax No madonna mia Ma stai scherzando? Secondo me piacerà A quel signore Mephistofelico Lì Al dietro le quinte Dici No è fortissimo Noia Forte dell'attacco d'ansia Del precedente concorrente Se l'è giocata Tranquillo Esatto Cosa cazzo fa? No Senza anima Allora canta tu Dovevi sentire l'essenzione vocale e l'hai fatta sopra Certo Cos'è meno siamo in dubbio Non sappiamo se è bravo o no Ok E' qui per realizzare un sogno Quale? Quale è il tuo sogno? Diventare male Ci provo almeno Quando parla non so io Cioè Una voce nel corpo sbagliato È vero? Allora ragazzi Io vi spiego una cosa Quello che per voi è simpatico Che sembra che voi state dicendo delle cose sì Ma sono cattiverie Sono gratuite Brutte Ragazzi Cioè la gente può ci rimanere Ci per esempio Amici Bella voce Ma in un corpo sbagliato Io Oppure sei del colore sbagliato Che se per caso poco poco lo dicevi a una di un colore che non fosse il bianco È rapologia Ma senti una cosa Ma quella c'è già i nemici dei russi Che cazzo viene Questo viene dal death metal no? Eh È rimasto il raggrattino Il raggrattino Il grattino del death metal Va bene Cisco Ci scopisco Io sono rimasto veramente Vasito Questa È una canzone Porta a pensare all'originale Ma Sunni Mao Avrà mai detto una cazzo di parola? Perché deve parlare a Sunni Mao? No Ne fa le mosse confesse E allora che cosa deve fare? Schiaffi No parole Tu ha un'interpretazione così Diversa Grazie al tuo timbro Grazie Grazie anche Al cazzo Non aver paura di affrontare le parti alte in maniera diversa Sì Facendo le basse Ovviamente fai venire a tutti Lei ha perso le emozioni nel 94 Lei è mia zia napoletana che mi diceva qualsiasi cosa Allora Alexa Alexa Vabbè richieste il telefono erotico? Avevo ragione Come sei vestita Quando quelli che chiamavano la sera Non puoi dirla Non puoi dirla Non puoi dirla Cazzo ragazzi Però Dicevo Alexa Alexa che ha perso le emozioni nel 98 Io penso la voglia di vedere questo programma Vai Un'esibizione veramente storica Close up fortissimo Perché si inquadratura in faccia Non lo so Poi lei si vede che era anche riscazzata Di venire qui con noi sul palco Perché è arrivato il momento Di Cosa? Di capire chi andrà avanti Di capire che cazzo devo dire Che mi sono dimenticata Tutte minchiate per inventarmi Per tirare fino alla fine Io devo dire che c'è veramente una grande tensione Però Vediamo Scrippiamo tanto è passato Young satana Può seguire la gara di All Together Now Eh? Now Tu sai già che è lui Ma perché? Cosa ne sai che è lui? Qua se lo meritano tutti Guarda Se lo meritano loro Di coglioni Guarda qua se lo meritano tutti Non fare quello che sa già il voto Che mi fai già di coglioni È passato Sì Fischello Voto politico? Sì Hanno sbagliato Credevano di votare Simone Ragazzi lo appoggio Anch'io Sei stato veramente Cosa? E ti chiedo Veramente Di andartene Va bene Va bene Guarda Adesso lo faccio io È solo una questione di gusti Di casi Perché qua veramente Michelle non ti devi più Michelle Michelle Vai avanti Tranquilla Grazie a tutti Ciao Però sto colore del vestito No Ma chi è? Ma perché? In viola Ma l'avrei preferito Un vestito a sera Un blu notte Oh ma c'è la voglia Vai via Io lo ripeto Tutte le puntate Perché ormai abbiamo scatenato Una cosa incredibile Con la nostra challenge Hashtag Alltogether now Hashtag Alzati e canta Hai visto quanti congiunti Sono alzati e vattene a fanculo Abbiamo visto delle cose Io ci ho questo fetish Per le stories Delle nonne Che si alzano e ballano Grani Partecipano alla nostra challenge Hashtag Hashtag Grani La presenza di Filippo Neck e di Albano Avremo tantissime MILF Che posteranno Mi sa che tua moglie Che posteranno le loro stories Schiaffi stasera Ti apre Ti apre Ti apre Voi postate una stories Taggate me Jaxofficial Adesso vado a casa Taggo Jaxofficial E quadro la mia vicina di casa Di 90 anni che stendo i panni Vieni la tua cazzata Io mi chiamo sempre Albano Ok perfetto Senza che fai la simpatica Capito? Che mi chiamo gente Come tra i tuoi anni Te lo sta buttando lì Uno Due Su Instagram I più bravi Verranno ripostati Dal Bano Sui social di Mediaset Allora adesso Per stemperare questa tensione Sì Scusami Ma io ho bisogno Di andare in bagno Di uno stacchetto Ah perfetto E noi con lo stacchetto La gag che Axe non vuole gli stacchetti La unica che ha bisogno degli stacchetti Però ci hanno ragione tutte e due Ci hanno ragione tutte e due Barlo Allora tu sei team stacchetti o team non stacchetti? Team lacchetti Ciao lacchetto Allora ragazzi Noi vi salutiamo Grazie per averci servito Se volete che continuiamo Questa ultima puntata Scrivetevi qua sotto A 15.000 like Droppiamo la seconda puntata ufficiale Cos'è che facciamo? Droppiamo? Droppiamo Ascolta io parlo giovane Sei tu quello vecchio Questa è una roba per Mediaset Ah Che cazzo dici? Droppo Ah pubblico di Mediaset Probabilmente vi staremo sulle balle Ma guardi tranquilli è reciproco Guardi Però Guardi pubblico di Mediaset È reciproco Però magari conoscendosi Poi capiamo tanti punti in comune Cioè abbiamo anche delle qualità Sì Nascostissime Qualità Nascostissime Però si sono eh Sì saluta Ciao Ciao con la manina Ciao 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 Ciao